Parlano nell'ordine Perché i maestri immateriali parlano nell'ordine di spirito, di sentire, di anima e di corpo fisico Commento Perché lo spirito, per ampliare il suo sentire che è coscienza produce degli effetti che si ripercuotano nella materia del corpo mentale e del corpo astrale Questi effetti a loro volta inducono modifiche nella costituzione dell'anima che è la personalità e infine nel corpo fisico Tali modifiche, per legge divina costruiscono sempre di più il meglio della realtà